Perché è vero che il nostro obiettivo è quello di portare a casa la spesa anche in un'ora, ma alla fine noi quello che facciamo è software. Ad esempio abbiamo realizzato un algoritmo che ci permette di trovare il miglior shopper sulla base della distanza dalla casa del cliente e del supermercato. Noi abbiamo creato il servizio che tutti si aspettavano. Chi preferisce andare a fare la spesa invece di stare un po' di più con i propri figli o bere un aperitivo con gli amici? Il servizio che abbiamo creato è utile, utile a 25 milioni di famiglie che in questo modo risparmiano tempo. Possibilità perché abbiamo visto che sul mercato c'era solo un player e il suo servizio era migliorabile. Quindi abbiamo trovato un modello americano, lo abbiamo calato nella realtà italiana, adattando il servizio alle esigenze del cliente italiano. E-commerce non è un termine nuovo, ma se ne sente parlare da diversi anni in questo mondo. Il problema però è che non è mai stato associato all'ecosistema groceries e della grande distribuzione. Quindi quello che vogliamo fare e che stiamo facendo è portare innovazione e fare disruption in questo contesto. Noi esistiamo perché esiste la rete. Solo 5 anni fa Supermercato24 non sarebbe potuto esistere. Perché in questo momento tutti hanno una smartphone sempre connesso ad internet. E grazie a questi smartphone la nostra rete logistica creata in crowdsourcing con più di 700 persone permette di andare a fare la spesa e riceverla anche solo dopo un'ora a casa del nostro cliente. Mercato perché ogni singolo shopper va nel supermercato a comprare la mela per il cliente e la sceglie lo stesso identico modo in cui la sceglierebbe lui, scegliendo la miglior mela possibile. 24 perché il cliente ha la libertà di decidere quando fare l'ordine in qualsiasi momento della giornata. 24 ore su 24. Perché era un nome semplice, un nome per le persone comuni. Supermercato è una parola che tutte le famiglie utilizzano. 24 era quel qualcosa in più che potevamo dare solo noi avendo una presenza in rete 24 ore al giorno. Questo è un progetto nato per una mia esigenza. Io vivevo tra Verona e Londra, quindi di solito ero martedì, mercoledì e giovedì vivevo a Londra e poi tornavo a Verona. Succedeva che quando ordinavo la spesa lunedì a Verona me la consegnavano il giorno dopo, ma io ero già a Londra. La stessa cosa succedeva quando ero a Londra e ordinavo la spesa. Quindi in realtà ho deciso di creare servizio che fosse più adatto per me, quindi la consegna migliormente in giornata. Questo progetto è nato con Marco e Gianluca. Io mi ricordo di inizio, mi ricordo una mail che è arrivata da Gianluca, che prima lavorava in una grande distribuzione e che un po' mi ha stalkerato qualche mese per riuscire ad arrivare al supermercato 24. Credevo tantissimo nell'idea e ho fatto di tutto per riuscire ad entrare in contatto con noi. Grazie a tutti!